Buongiorno, ho un appuntamento con Alfredo. Ora vi illustrerò come utilizzare il defibrillatore semiautomatico. La prima cosa da fare è mettere in sicurezza la scena dove vi è il paziente. E allora come è andata ragazzi questa passeggiata all'Oasi? Quindi ogni anno occorre ridigere il bilancio dell'Associazione riportando tutte le uscite e tutte le entrate. Ecco una domanda, che cosa si intende per tutte le uscite? Tutte quelle spese che l'Associazione affronta sia ordinarie che straordinarie per la conduzione della stessa. Mi sembra ci sia tutto quello che ci avete chiesto. Il lancio degli anelli con gli anelli, il basket con il pallone, il castello che va gonfiato, i tavoli e le sedi. Giusto? Giusto, sì. Ragazzi allora io vi auguro buon evento, alla prossima. Grazie mille. Si sente? Sì, sì. Ci puoi indicare quali sono le attività dell'Associazione di quest'ultimo anno? Sì, certamente. Ciao Sara, scusami, arrivo subito, finiamo l'intervista. Va bene. Il Centro Servizi per il Volontariato Sodalis, che riunisce oltre 200 associazioni, fornisce un supporto ai volontari della provincia di Salerno, sostenendo le associazioni nella progettazione e realizzazione degli interventi, potenziando le capacità dei contesti sociali, istituzionali e non di rispondere ai bisogni della comunità, favorendo una nuova cultura in cui le diversità diventino ricchezza per tutti. In Sodalis coltiviamo il coraggio per un mondo migliore, attraverso la bellezza e la creatività dell'agire volontario.